Musica Tristezza, sgomento, incredulità, tante le reazioni dai cittadini comuni alle principali autorità civili e religiose dopo il tragico incidente che nella notte di domenica al termine di Potenza Foggia ha causato la scomparsa di tre giovani tifosi rossoneri proclamato il lutto cittadino in città nel registro degli indagati anche il padre di una delle vittime Dopo quanto accaduto sui conti spiati dell'ormai ex dipendente di Intesa San Paolo i dispositivi informatici sono ora al setaccio obiettivo certificare responsabilità e far sì che queste situazioni non si verifichino più al centro la figura naturalmente di Conviello ma non solo la banca coinvolta promette non si ripeterà più ma risulta indagata La cooperativa a terre di Puglia che fa riferimento all'associazione libera di Don Luigi Ciotti dichiara il fallimento gestiva beni confiscati alla criminalità organizzata in provincia di Brindisi Tg interregionale di Antena Sud ben ritrovati naturalmente la notizia non può che essere ancora il triste il tragico incidente avvenuto proprio nella notte di ieri nella tarda serata di ieri al termine della sfida tra Potenza e Foggia tre tifosi rossoneri giovani tifosi rossoneri coinvolti in un incidente e lasciando appunto davvero sgomenta un'intera comunità la comunità foggiana e il fattaccio accaduto lungo la strada statale 658 Francesco Cutro Un pianto che lacera il cuore quello della mamma di una delle tre giovani vite spezzate nell'ennesimo incidente verificatosi su quella che la cronaca nera ha ribattezzato la strada della morte la SS 658 Potenza Melfi che negli anni ha metuto tante troppe vittime e questa volta è toccato a tre supporters rossoneri di rientro dalla partita disputata allo stadio Viviani tra Potenza e Foggia si tratta di Gaetano Gentile, 21 anni, Michele Biccari, 17, Samuele del Grande che avrebbe compiuto 14 anni tra pochi giorni sulle cause del terribile impatto frontale tra la Renault sulla quale viaggiavano i tre giovani e una Volkswagen a bordo della quale si trovava una famiglia, padre, madre e due figli minorenni sono ancora in corso le indagini da parte degli inquirenti ma la pericolosità di quel tratto stradale intorno al chilometro 2 l'illuminazione praticamente assente e il restringimento da due ad una corsia per senso di marcia potrebbe essere stata caso insieme all'ipotesi di un sorpasso azzardato del fatale impatto ma su questo punto sarà la procura a far luce sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e personale del 118 che ha condotto al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo sette persone sono ricoverati in rianimazione un 15enne le cui condizioni sono molto gravi e un 18enne entrambi di Foggia sempre della città pugliese è un 54enne che si trova nel reparto di osservazione breve e intensiva nello stesso reparto si trovano anche marito e moglie e lucani entrambi 49enni i due figli di 13-10 anni sono ricoverati fortunatamente in condizioni non gravi nel reparto di pediatria e a proposito dell'incidente ci sono naturalmente dei risvolti sul piano giudiziario notizia proprio di pochissimo fa con l'accusa stradale di omicidio colposo la procura della Repubblica di Potenza è scritto infatti nel registro degli indagati l'uomo che era la guida dell'auto nella quale ieri sera viaggiavano i tre tifosi del Foggia morti a causa delle ferite riportate in un incidente stradale secondo quanto si è appreso l'indagato è il padre di una delle tre vittime sui cui cadaveri è stata disposta l'autopsia i tifosi del Foggia avevano assistito poco prima appunto alla sfida del Viviani terminata lo ricordiamo col punteggio di 1 a 1 e che abbiamo trasmesso anche noi di Antenna Sud ovviamente quello che è accaduto a Foggia ha immediatamente scatenato le reazioni del sindaco dell'arcivescovo in particolar modo Ferretti dice il signor risorto doni la pace a questi nostri giovani e nel capologo Down in occasione dei furierami sarà naturalmente giorno di lutto cittadino vediamo insomma quello che è il punto della situazione ce lo fornisce Antone Ladavola Morire in giovanissima età in una giornata dedicata ad una grandissima passione quella per la propria squadra del cuore questo non è solo il tragico destino che ha travolto la vita dei tre giovanissimi tifosi del calciofoggia deceduti nel drammatico incidente stradale al rientro dalla trasferta a Potenza il 13enne Samuele del Grande, il 17enne Michele Bicari e il 21enne Ghetano Gentile e delle loro famiglie ma è anche un'ombra di dolore, sgomento e senso di impotenza che si è posata su un'intera comunità che nella serata di ieri ha fatto fatica ad addormentarsi e questa mattina a risvegliarsi senza provare un profondo e indimenticabile senso di shock Foggia stanotte ha avuto una notte di dolore, di lacrime, di solidarietà vera, autentica nei confronti di queste tre famiglie, di queste tre giovani vite spezzate il nostro affetto, l'affetto di tutte le cittadine e i cittadini è forte, è sentito e assolutamente vicino a questa tragedia L'amministrazione ha ritenuto di annullare gli eventi previsti per oggi? Sì, o comunque quelli inevitabili saranno preceduti da un momento e un pensiero di commemorazione di silenzio e di preghiera Ovviamente in concomitanza dei funerali la città si fermerà bloccherà le sue attività commerciali, negoziali, imprenditoriali per essere tutti coralmente all'unisono uniti in questo momento di preghiera e di lutto Un profondo dolore che invade il cuore Questa mattina nella mia preghiera, nella celebrazione dell'Eucaristia ho ricordato questi tre giovani, tre vite spezzate ed è il mistero del male che non è facile né comprendere né spiegare E allora siamo vicini al dolore delle famiglie e preghiamo il Signore Onnipotente, Dio della vita che accolga in cielo questi tre giovani che diventino come degli angeli per le loro famiglie E vediamo adesso in questo servizio quelle che sono le condizioni dei sette feriti, due e quali gravi Restano gravi le condizioni di due e dei sette feriti trasportati a San Carlo di Potenza a seguito dell'incidente avvenuto sulla Potenza Melfi dove hanno perso la vita i tre giovani tifosi del Foggia di ritorno dalla partita disputata domenica 13 ottobre contro il Potenza Si tratta di due giovani, rispettivamente di 18 e 15 anni anche loro originari della città pugliese che si trovavano a bordo della vettura una Renault Sette Poste guidata dal padre di una delle tre vittime Sulle condizioni dei due ragazzi e degli altri cinque feriti sentiamo cosa ci ha detto il direttore della rianimazione del San Carlo il dottor Libero Mileti Dottor Mileti, sono sette i feriti, due sembrano più gravi Qual è la situazione in questo momento? I due ragazzi che sono ricoverati in rianimazione hanno entrambi un gravissimo politrauma complesso uno è già stato ritrattato questa mattina in radiologia interventistica all'altro stiamo attendendo un'ulteriore valutazione dei chirurghi vascolari la situazione per entrambi rimane riservata e molto seria Per quanto riguarda invece gli altri cinque feriti giunti ieri sera qui all'ospedale? Quelli credo siano stati gestiti in altra maniera forse in medicina d'urgenza obi ma non mi risulta che abbiano problemi particolari da attenzionare Per quanto riguarda i due ragazzini, i due bambini che erano nella vettura con i loro genitori che dovrebbero essere ricoverati in pediatria qual è la situazione? Mi risulta anche loro nulla il padre ricoverato in chirurgia toracica per un trauma costale chiuso Nella mattinata di lunedì si sono recati a far visita ai parenti delle vittime e dei feriti il vicepresidente del Foggia Calcio Emanuele Canonico e il tecnico rosso-nero Ezio Capuano Anche l'amministrazione comunale di Foggia e tutto il mondo dello sport è pronto chiaramente a metterci nel suo a dare il proprio contributo per organizzare appunto l'ultimo saluto ai tre giovanissimi scomparsi mettendo a disposizione i propri luoghi più rappresentativi in occasione delle seguie Tutto il mondo dello sport della città di Foggia è in lutto per la morte dei giovanissimi tifosi che hanno perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto al rientro dalla trasferta calcistica a Potenza pronto a dare il proprio contributo se le famiglie daranno il consenso per organizzare l'ultimo saluto a Gaetano, Samuele e Michele mettendo a disposizione i propri spazi e luoghi più rappresentativi per accogliere le migliaia di persone che prenderanno certamente parte alle seguie Indirremo il lutto cittadino e poi dal punto di vista chiamiamolo organizzativo cioè quello che deve essere l'ultimo saluto che la città vuole chiaramente tributare a questi nostri giovani ragazzi è da organizzare con le famiglie perché noi dobbiamo rispettare quelle che sono le loro volontà quindi se fare una camera ardente comune anche i funerali quindi vedremo in queste ore di organizzare al meglio ma proprio per essere vicini e far capire che tutta la comunità non solo quella sportiva tutta Foggia è vicina quando succedono queste tragedie è vicina ai nostri concittadini che sono stati colpiti da questo lutto incredibile Abbiamo appreso che uno dei ragazzi era un giocatore del Cus Under 21 che ricordo emerge di questo ragazzo? Beh mi dicono un ragazzo estremamente lavorativo andava a tutti gli allenamenti un appassionato di sport andava a scuola come tutti i ragazzi un classico ragazzo bravo ragazzo che aveva voglia di vivere e che come tanti di noi aveva la passione per il foggia calcio quindi era in trasferta con amici, parenti quello che ci risulta e purtroppo ci lascia un grande dolore perché una vita spezzata a quell'età da genitore non puoi solo che immedesimarti e forse non ce la fai neanche immedesimarti non oso immaginare Il mondo dello sport si mette a disposizione per eventualmente dare un ultimo saluto a questo ragazzo? Assolutamente sì e stavamo immaginando anche con i nostri dirigenti che cosa fare in che modo poter ricordarlo e sostenere la famiglia e quindi tutto quello che potrà essere nelle nostre forze lo faremo E adesso cambiamo argomento ma torniamo su un altro argomento che in questi ultimi giorni ha fatto parlare e discutere tanto sia l'operazione Conti Spiati naturalmente ora tutti i dispositivi informatici sono al setaccio ovviamente l'obiettivo di Intessa San Paolo è far sì che tutto ciò non si ripeta più però ci sono degli ulteriori sviluppi sulla faccenda c'è l'illustanto nella fazia Siamo molto dispiaciuti di quanto accaduto e chiediamo scusa ciò non dovrà più accadere capo sparso di cenere per Banca Intessa San Paolo dopo l'inchiesta della Procura di Bari che sta indagando su Vincenzo Coviello il 52enne di Bitonto ex dipendente della filiare Agribusiness di Bisceglie è accusato di aver effettuato 6.637 accessi abusivi tra il febbraio 2022 e l'aprile scorso visionando i movimenti di 3.572 persone tra cui 34 politici 43 BIP 70 tra dirigenti e manager della banca e persone comuni e aziende su 679 filiali dell'istituto di credito il bancario che ha sempre ripetuto che la sua fosse semplice curiosità è stato licenziato l'8 agosto scorso dopo l'indagine interna della banca e la denuncia ai carabinieri di un correntista il professor Antonio Moschetta di Bitonto ordinario dell'Uniba che per primo si sarebbe accorto di strani accessi sul suo conto intanto Intesa conferma che non c'è stato alcun problema di sicurezza informatica la domanda alla quale ora dovranno rispondere gli inquirenti è davvero semplice morbosa curiosità personale o un disegno con un mandante e questa risposta potrebbe arrivare nei prossimi giorni dagli smartphone, tablet, hard disk e dispositivi informatici sequestrati nei giorni scorsi a casa e sul posto di lavoro di Coviello la procura di Bari affiderà l'incarico ai tecnici per ricostruire tempi, modalità e tipologia degli accessi ai dati riservati della banca ma anche eventuali contatti che il 52enne possa aver avuto prima o dopo ogni accesso e capire se effettivamente abbia tenuto per sé come ha detto le informazioni raccolte una versione tutta da verificare e che al momento non sembra convincere la procura di Bari che indaga l'ex bancario per accesso abusivo ai sistemi informatici i PM ritengono verosimile che Coviello abbia agito in concorso con un mandante e destinatario delle informazioni riservate che, nell'interesse politico interno o internazionale dello Stato dovevano rimanere segrete ma chi lo ha conosciuto ritiene improbabile che il 52enne commercialista di Bitonto sia stato capace di dossieraggi e ci sono novità anche per quanto riguarda appunto intesa a San Paolo che inevitabilmente è stata tirata in ballo un portavoce rispetto a notizie di stampa precisa che la banca non ha ricevuto alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria e sottolinea che la banca ha potuto procedere con la notifica presso l'autorità per la privacy e la denuncia presso la procura di Bari come parte l'ESA nei tempi resi possibili da un processo esteso e accurato volto alla ricostruzione di quanto avvenuto una volta che la struttura di controlli interni e evidenziato le anomalie hanno subito preso avvio la procedura disciplinare e l'analisi dei fatti che hanno richiesto una complessa ed estesa ricostruzione di quanto avvenuto nel mentre la banca ha sospeso cautelativamente il dipendente e ha proceduto ad avviare l'interlocuzione con l'autorità per la privacy integrando successivamente l'iniziale notifica con gli sviluppi della vicenda la complessa analisi dei fatti con il conseguente completamento del procedimento disciplinare nel rispetto delle procedure a garanzia della tutela del lavoratore ha condotto a licenziamento alla luce delle gravi e ripetute violazioni di norme regolamenti e procedure interne da questo commesse solo a conclusione di tutto ciò la banca sottolinea ha infine potuto procedere a sporgere denuncia come parte l'ESA sulla base dell'esposizione dei fatti come ricostruiti dall'autorità giudiziaria il comportamento della banca sarà sempre basato dicono inoltre sulla massima collaborazione con le autorità e quindi è un caso che chiaramente farà ancora discutere ma intesa San Paolo ha voluto dunque precisare come abbiamo appunto letto adesso ci spostiamo a Taranto l'argomento in questo caso è la riaccensione dell'Alto Forno 1 cosa che avverrà domani pomeriggio alle 16.30 naturalmente parliamo di acciaierie d'Italia del suo stabilimento a Taranto sarà presente anche il ministro Urso Leo Spalluto contro la rovescia per la riaccensione dell'Alto Forno 1 dello stabilimento di acciaierie d'Italia di Taranto sarà il ministro delle imprese Adolfo Urso a premere il pulsante della riavvio alle 16.30 di martedì 15 alla presenza dei commissari non ci saranno il sindaco Melucci che ritiene meritevole di cerimonie solo la partenza dei futuri forni elettrici e la regione che con la voce dell'assessore all'ambiente Trigiani ritiene il riavvio della FUNO contrario al processo di decarbonizzazione i sindacati come spiega il segretario Fincislatana Antoblindisi Biagio Prisciano aspettano chiarezza sul piano industriale ambientalizzazione e processo di vendita e attendono l'incontro urgente a Roma richiesto al governo che dovrebbe svolgersi mercoledì 30 ottobre la ripartenza del secondo Alto Forno è un fatto positivo perché comunque determinerà insomma un minore impatto dei lavoratori in cassa integrazione rimane invece importante per noi per la FIM come sempre abbiamo dichiarato e rivendicato puntare su una produzione ecocompatibile ed ecosostenibile al fine di produrre acciaio green e questo lo si fa ovviamente con l'introduzione di tutte quelle tecnologie che sono importanti e provvedeutiche al fine di eliminare gli inquinanti quindi salvaguardando l'ambiente la salute e il lavoro ovviamente si passa da un serio piano industriale da un serio piano ambientale abbiamo anche sollecitato un incontro al governo proprio in virtù anche a seguito di quelle che sono state le manifestazioni di interesse a Brindisi giornata finale dello SNIM salone nautico c'era il governatore regionale Michele Emiliano tanti temi da lui evidenziati uno di questi la questione occupazionale l'Enel dice non può lasciare alcun vuoto Fabrizio Caganiello giornata conclusiva dello SNIM il salone nautico di Puglia giornata importante sul piano dei confronti e dei convegni giornata che ha visto anche la partecipazione del presidente della regione Puglia Michele Emiliano la regione ha garantito massimo sostegno per questo salone che sarà ancora ulteriormente potenziato nelle prossime edizioni sentiamo quello che ha dichiarato il presidente Emiliano Brindisi è la capitale della nautica pugliese la regione Puglia sta sostenendo questo evento con tutte le sue energie devo dire che Brindisi ha risposto benissimo con le sue imprese con i suoi organizzatori con anche le scuole che oggi si dedicano ad una giornata per la formazione sulla Blue Economy cioè su tutte quelle occasioni di cultura della natura della sostenibilità ma anche del lavoro che sono legate al distretto nautico di formazione ha parlato anche il dottor Guido Grimaldi presidente della Grimaldi Group che si è soffermato sul rapporto tra la società armatrice e Brindisi un rapporto straordinario che è partito benissimo da subito noi nel 2012 quando abbiamo inaugurato le prime linee abbiamo subito avuto il favore sia del mercato che della comunità portuale ma non solo anche civile Brindisi e non e quindi siamo molto felici di quello che stiamo facendo oggi l'impegno del nostro gruppo attraverso due navi che sono Europa Link e la Kidon lo dimostra sono due navi che hanno una capacità straordinaria una a livello di carico e l'altra a livello di passeggeri forse le più grandi del Mediterraneo dunque sicuramente Nautica ma anche come detto Energia e Cerano è stata protagonista da questo punto di vista di proteste ennesime davanti ai cancelli braccio incrociati inoltre anche per il settore ristorazione anche loro rischiano di restare a casa Michele Iurlaro nonostante i raggi del sole più che tiepidi in questo caldo inizio d'autunno le nuvole occupazionali che sovrastano la centrale nel Diciarano sono evidenti come evidente lo sconforto dei lavoratori delle dite appaltatrici per loro al momento non è previsto un futuro posto carbone da nessun punto di vista e così i metalmeccanici operatori del servizio di pulizie industriali e soprattutto del servizio di ristorazione hanno dato via ad un nuovo blocco davanti alla Federico II ci troviamo che sapevamo già che a dicembre ce ne andiamo a casa tutti è incominciato adesso i metalmeccanici della Revisud che sono andati hanno licenziato tutti e domani invece ci sta anche la ristorazione con 200 passi facevamo mandando i buoni pasto e mandando la gente in pensione dell'Enel stiamo trovando che fra un pochi giorni finiscono anche i roll che abbiamo e ce ne andiamo a casa noi dopo 40 anni qua dentro vogliamo fare questo tavolo domani alla Prefettura una volta per sempre finito tutto qui a Cerano ma speriamo di no speriamo di no davvero perché qua abbiamo tutti da perdere lavoro stima dignità vi sentite abbandonati? sì abbastanza siamo proprio abbandonati da tutti non c'è nessuno che ci possa difendere che cosa chiedete? niente un progetti nuovi per poter continuare a lavorare nient'altro e comunque andare avanti il Stato parla i polizi parlano ma il risultato di zero Assessore alla legalità al comune di Bari sciolte tutte le riserve è stato nominato in quota 5 stelle Nicola Grasso una novità che completa anche la squadra di governo del sindaco Vito Leccesi Antonio Bucci certamente la città di Bari riceverà il supporto e l'apporto del Movimento 5 Stelle per il prossimo futuro è rimasto cauto fino all'ultimo Raimondo Innamorato coordinatore provinciale ma la fumata bianca c'è e Nicola Grasso il nuovo Assessore a legalità antimafia sociale trasparenza e appalti in quota al Movimento professore associato di diritto costituzionale al Dipartimento di Beni Culturali dell'Unisalento da sempre vicino al Movimento e già candidato in passato sarà lui a riempire l'ultimo slot rimasto vacante nella giunta barese di Vittoreccese era rimasto vuoto dopo lo scontro interno ai 5 Stelle il passo indietro di Raffaele Diomede nominato ma non riconosciuto dal gruppo in aula non è bastata l'indicazione di Stefania Saracino studi giuridici docente e già candidata il sindaco infatti ha preso tempo per vagliarne il profilo salvo poi giocare alla carta della moral suasion per ottenere un'alternativa quello che dobbiamo capire è che è importante per i prossimi mesi rispetto a quanto già avvenuto essere concreti nelle azioni mi rendo conto che i nomi appassionino dobbiamo lavorare su sulle argomentazioni e soprattutto sul programma di governo che diciamo assieme abbiamo condiviso quindi siamo pronti ha ribadito di aver cercato di salvare rianimare la moglie in seguito a un incidente stradale in cui l'auto ha preso fuoco si difende così il 65enne di Gravina in Puglia Giuseppe Lacarpia che oggi ha tenuto nel corso del suo interrogatorio svoltosi in carcere a Bari davanti alla GP Sabella Valenzi quindi questa la sua tesi difensiva ho provato a salvare e rianimare mia moglie e ha ribadito la sua linea di difesa Giuseppe Lacarpia il 65enne accusato di aver ammazzato la moglie Maria Arcangela Turturo di 60 anni nella notte del 6 ottobre scorso a Gravina in Puglia dopo aver simulato un incidente stradale aver dato fuoco all'auto sulla quale viaggiavano nelle scorse ore si è tenuto l'interrogatorio di garanzia davanti al GP Valeria Isabella Valenzi slittato dalla scorsa settimana Lacarpia che soffre di problemi neurologici è accusato dell'omicidio volontario con gli aggravanti del legame di parentela delle premeditazioni della crudeltà per l'accusa Lacarpia avrebbe privadato fuoco alla macchina mentre la moglie era ancora all'interno e poi quando la donna ha provato a fuggire l'avrebbe immobilizzata a terra causando le fratture alle gambe al torace la donna è poi morta nell'ospedale di Altamura il 65enne fermato e portato in carcere non ha assistito all'udienza di convalida del suo fermo perché in ospedale per una caduta dal letto a castello della sua cella rispondendo al giudice ha confermato l'avversione data ai soccorritori intervenuti sul posto per la Jeep Lacarpia ha infierito sulla moglie riprendendo la condotta pochi secondi dopo essersi fermato a dimostrazione dell'intenzione di eliminarla verosimilmente per impedirle di denunciarlo a sostegno della tesi dell'accusa c'è un video di pochi secondi girato da una ragazza che quella notte passava di là in macchina con alcuni amici in cui si vedrebbe Lacarpia immobilizzare la donna a terra rimanendo sempre su Bari la Jeep di Bari Valeria Isabella Valenzi ha rimesso in libertà il 32enne Pasquale Leonardo Tritta arrestato lo scorso marzo al termine di un'indagine della DDA condotta dai carabinieri che portò all'arresto di 56 persone ritenute appartenenti al clan Parisi Palermiti del quartiere Iapigia di Bari le indagini fanno riferimento al periodo tra il 2017 e il 2020 a Tritta difeso dall'avvocato Loconsole erano contestati i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e altri quattro episodi di spaccio risalenti al 2017 bene adesso andiamo un attimo in pausa pubblicitaria ma torniamo tra pochissimo ben ritrovati ripartiamo da Brindisi tentata estorsione sacra Corona Unita dopo il blizzo di venerdì è arrivato il momento degli interrogatori di garanzia per i quattro brindisini arrestati dalla polizia vediamo come è andata con Gianmarco Di Napoli a fronte di un'ordinanza cautelare solida puntellata dalla denuncia della vittima e dalle indagini condotte dalla polizia con immagini e intercettazioni i quattro arrestati nel brindisino per il presunto caso di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso affrontano l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce dove si trovano detenuti da venerdì Lucio Annis 54 anni considerato uno dei boss di San Pietro Vernotico il mesagnese Tobia Parisi il brindisino Francesco Sisto e Salvatore Esposito di San Pancrazio Salentino sono accusati di aver preteso un pizzo da 200.000 euro poi ridotto a 50.000 e l'assunzione di un loro uomo di fiducia dal titolare di un'impresa che ha ottenuto l'appalto per lavori stradali a Mesagne una vicenda che oltre a confermare i tentativi della Sacra Corona di riappropriarsi difette del territorio rivela un allargamento delle maglie della territorialità un tempo molto fiscale a personaggi ritenuti vicini al clan Pasimeni vitale della Sacra Corona Unita mesagnese quale appunto Annis viene consentito di operare al di fuori della loro area di competenza San Pietro Vernotico appunto per spostarsi sino a Mesagne lasciando anche ipotizzare che in qualche modo l'attentato compiuto due settimane fa davanti all'abitazione dello stesso Annis possa rivelare una contrapposizione non solo tra personaggi locali che intendono assumere il controllo totale delle attività illecite a San Pietro ma anche tra boss storici della Sacra Corona mesagnese il clan rivale di Annis a San Pietro farebbe infatti riferimento al boss di Mesagne Francesco Campana da sempre vicino a Pino Rogoli Salvatore Buccarella e in contrapposizione con Pasiveni e Vitale ai quali Annis è affiliato a Barletta maxi operazione di evasione scoperta da parte della guardia di finanza nel settore dell'edilizia nei guai due imprese sempre di Barletta a cui sono stati sequestrati beni per il valore di 12 milioni di euro Andrea Catino sequestro di beni per 12 milioni di euro nei confronti di due società edili con sede a Barletta ad eseguire il provvedimento i finanziieri del comando provinciale della BAT l'accusa nei confronti delle sette persone indagate di frode fiscale al termine delle indagini condotte dagli investigatori del nucleo di polizia economica finanziaria di Barletta sotto la direzione del coordinamento della procura della Repubblica sono state acclarate condotte fraudolente dalla gestione delle due imprese operanti nella costruzione di edifici residenziali consistenti nell'emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nonché la falsa somministrazione di mano d'opera l'attività investigativa ha preso il via dalle verifiche fiscali alle due società ed ha fatto emergere un meccanismo fraudolente per cui una delle due imprese utilizzava fatture emesse da parte di quattro cartiere che generavano credito d'imposta per compensare il debito fiscale dei lavoratori assunti e a sua volta mediante contratti di subappalto fittizi fatturava e creava costi alla società madre l'unica realmente operante con il conseguente artificioso abbattimento dell'utile di esercizio delle imposte dovute numerosi sono i beni di lusso le disponibilità finanziare così come quasi 30 sono gli immobili posti in sequestro e cautelati per il successivo ristore erariale tramite la gestione di un amministratore giudiziario nominato dal tribunale torniamo adesso a Taranto due incidenti sul lavoro ci sarebbe anche un ferito grave i dettagli con il servizio dal direttore Gianni Sebastio due incidenti sul lavoro si sono verificati a Taranto e provincia a poche ore di distanza l'uno dall'altro il primo è avvenuto nel capologo ionico in pieno centro in via Berardi un artigiano di 58 anni è finito all'interno di un intercapedine in seguito al crollo di una tettoia mentre era impegnato in un intervento di ristrutturazione all'interno di un appartamento subito dopo l'allarme sono scattati i soccorsi sul posto si sono recati i sanitari del 118 e gli agenti di una volante della polizia di stato sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a trarre in salvo l'uomo le operazioni di recupero dell'artigiano sono state particolarmente difficoltose infatti i vigili del fuoco sono stati costretti ad accedere attraverso uno stabile adiacente come vediamo nelle immagini l'uomo è stato poi trasportato con un'ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata dove è ricoverato in condice rosso in rianimazione ha riportato politraumi e varie fratture sono in corso accertamenti per appurare le cause dell'incidente sul posto è giunto anche l'assessore comunale di Taranto Mimmo Ciraci per comprendere quanto accaduto l'altro incidente sul lavoro si è verificato a Crispiano un operaio è precipitato da un'altezza di circa 6 metri mentre sistemava un'antenna su un terrazzo non è in pericolo di vita anche egli è ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata del capologo Ionico sui due incidenti indagano le forze dell'ordine e il personale dello Spesal il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro incendiato un capannone sempre a Taranto in zona a Bella Vista gli ultimi aggiornamenti con Gianmarco Sansolino ecco cosa rimane del maxi capannone industriale in zona a Bella Vista a Taranto a due giorni dall'incendio c'è ancora fumo che viene fuori 25 mila metri quadri andati in fumo ha retto soltanto il perimetro della struttura diversi cedimenti interni e del solaio persa anche tutta la merce per lo più natalizia in plastica di importazione cinese un grave danno per la 2S che però pare non fosse dotata di un impianto antincendio e intanto i vigili del fuoco con diverse squadre continuano a bagnare la zona completate le operazioni di messa in sicurezza e bonifica si prevede il sequestro per permettere alla magistratura le perizie del caso la procura di Lecce intanto ha disposto l'autopsia dopo l'incidente che giovedì scorso è costato caro ad un norvegese turista di 62 anni dinamiche ancora ritenute poco chiare sono stati attimi di paura quelli che hanno caratterizzato la serata di domenica 13 ottobre a Nardò in Salento intorno alle 22 una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce intervenuta in via Pietro Giannone in seguito alla deflagrazione di bassa intensità avvenuta all'interno dell'abitacolo di una Fiat Panda alimentata a gas e parcheggiata lungo l'arteria urbana sarebbe stata una miscela esplosiva a causare il botto dovuto probabilmente alla combinazione tra una scintilla e la fuoriuscita di gas metano dal sistema di alimentazione del mezzo la deflagrazione ha coinvolto un ventenne del posto che si trovava all'interno del veicolo sarebbe stato lui secondo le prime ricostruzioni dei caschi rossi ad azionare un accendino per accendersi una sigaretta provocando in pochissimo tempo l'esplosione a causa dell'eccessiva presenza del metano nell'abitacolo il giovane ha riportato ustioni intermedie al volto e al poio capelluto motivo per il quale è stato immediatamente trasportato presso il centro grandi ustioni dell'ospedale Perrino di Brindisi dopo le prime cure sul posto da parte degli operatori sanitari del 118 il ventenne attualmente ricoverato presso il nosocomio salentino e le condizioni cliniche sono state valutate con prognosi riservata il veicolo invece è andato completamente distrutto in seguito all'episodio per l'accertamento della causa il mezzo è stato posto sotto sequestro sull'accaduto indagano i carabinieri del comando stazione di Nardò Il servizio era di Francesco Schiavano adesso andiamo a Brindisi perché la cooperativa Terre di Puglia legata in un certo modo all'associazione libera di Don Luigi Ciotti ha dichiarato fallimento gestiva beni confiscati alla criminalità organizzata nel territorio appunto Brindisino Per la prima volta in Italia una cooperativa per la gestione di beni confiscati alla mafia dichiara fallimento accade a Terre di Puglia Libera Terra fondata a Mesagne nel 2008 in seno al progetto che l'associazione libera di Don Luigi Ciotti promuove nel mezzogiorno d'Italia all'origine del fallimento un inspiegabile buco di oltre 800 mila euro nei bilanci con impossibilità di pagare i fornitori e i dipendenti e la successiva messa in liquidazione la cooperativa gestiva alcuni beni simbolo confiscati alla Sacra Corona Unita in provincia di Brindisi primo fra tutti la masseria Canali di Mesagne appartenuta a uno dei capi storici dell'organizzazione Carlo Cantanna e poi un vigneto alla periferia di Torchierolo confiscato a Tonino Screti cassiere della Sacra Corona Unita negli anni 90 e che doveva dare vita alla cantina della legalità di fatto inattiva da anni altri terreni si trovano a Oria e Fasano una parte degli introiti della cooperativa proveniva proprio dalla lavorazione della terra e dalla vendita dei prodotti biologici gli altri dalle convenzioni sottoscritte con gli enti qualcosa però negli ultimi anni è andato storto tra i primi ad accorgersene è stato il sindaco di Torchierolo Elio Ciccarese che al momento di rinnovare la convenzione si è accorto che il raccolto era rimasto sui rami e ha chiesto spiegazioni senza ricevere risposta il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale ha convocato un tavolo al quale parteciperanno i sindaci dei comuni interessati e i vertici di Libera parallelamente si sta cercando di appurare le cause ed eventuali responsabilità di un buco economico di tali dimensioni e per il quale tutti i dipendenti saranno licenziati l'informazione è a rischio e fare una buona cronaca giudiziaria è sempre più difficile l'accusa arriva direttamente dall'ordine dei giornalisti a Roma nel Milino il decreto Cartabia Francesco Manigrasso fare una buona cronaca giudiziaria è sempre più difficile con l'entrata in vigore del cosiddetto decreto Cartabia secondo l'ordine nazionale dei giornalisti sono state approvate una serie di leggi che lo rendono quasi impossibile ad esempio soltanto i procuratori possono fornire notizie su procedimenti penali le forze dell'ordine se non tramite comunicato o conferenza stampa non possono più farlo insomma c'è in gioco la tempestività della notizia oltre le critiche alle istituzioni bisogna però fare attenzione a svolgere questa professione ci vuole preparazione per questo la formazione è indispensabile come la misura e la continenza nell'esposizione perché si ha a che fare con persone e anche se colpevoli occorre sempre mantenere rispetto io parlo di bavagli perché non c'è una norma sola che impedisce il diritto di corona soprattutto in ambito giudiziario ma sono una serie coordinata di leggi che diciamo avvicinano l'Italia più alla Turchia che agli Stati Uniti La preoccupazione maggiore è quella relativa al progetto di riforma in materia di diffamazione al vaglio della Commissione Giustizia del Senato viene eliminato il carcere sì ma si introducono multe fino a 50.000 euro inoltre la pubblicazione della rettifica automatica Chiediamo che il Parlamento ripensi fondamentalmente il disegno di legge sulla diffamazione perché ci sono norme che uccidono la possibilità di fare cronaca e non ci sono norme serie che penalizzano le querelle temerarie L'estate è finita ma nelle strade del Salento i rifiuti continuano a essere troppi in giro Pneumatici spazzature elettrodomestici parti di carrozzeria d'auto scarti ediglie rifiuti organici è quello che si trova ridosso della strada statale 274 e la 101 dove rifiuti di ogni genere hanno preso il sopravvento aumentando di quantità giorno dopo giorno sulle piazzole di sosta delle arterie extraurbane in ogni spazio non mancano buste di plastica alcune usurate dagli agenti atmosferici a dimostrazione di come nessuno da tempo interviene per rimuoverle rifiuti che mentre si percorrono le strade regalano a turisti e residenti la fotografia di un Salento dove non solo regna l'inciviltà e l'incuria ma anche dove sembra non essere efficiente il servizio di manutenzione delle strade da parte dell'azienda incaricata si attende l'intervento di Anas infatti per provvedere alla rimozione dei bustoni di tela contenenti pneumatici oggetti per la casa seggiolini per bambini e rifiuti di ogni tipo raccolti dall'azienda e accatastati sotto un ponte della strada statale 101 in una zona tra San Nicola e Gallipoli alla richiesta di un celere intervento da parte di residenti e associazioni ambientaliste ora si aggiungono anche le istituzioni ho sentito l'Anas più volte è chiaro che c'è stato un problema nelle rimozioni dei rifiuti abbiamo risollecitato hanno avuto un problema con la ditta ma non è possibile vedere i rifiuti accantonati sulle strade questo è un problema di cui dobbiamo tutti noi in istituzioni sentire la responsabilità ma ad Anas abbiamo chiesto una risposta più celere perché quei bustoni non fanno bene al Salento l'appello è che l'intervento di rimozione possa avvenire al più presto a parlare sono le immagini basta guardare oltre il guardrail che delimita le piazzole di sosta per vedere come la natura ormai convive con l'incuria dell'uomo Sant'Anna San Giorgio e Torre a Mare sono i prossimi tre quartieri di Bari ad essere coinvolti dal porta a porta a un nuovo sistema di raccolta rifiuti dopo Bari Nord dal San Paolo a Catino passando per Enziteto e Bari Ovest con il quarto municipio la raccolta differenziata porta a porta e pronta a occupare si fa per dire la zona sud del capoluogo nelle prossime ore infatti prenderà il via la distribuzione dei kit in vista dell'avvio della raccolta nei quartieri Sant'Anna San Giorgio e Torre a Mare nel territorio del municipio 1 che interesserà più di 14.000 cittadini 6.334 utenze domestiche 136 condomini e 265 utenze non domestiche si parte con una prima fase ovvero il ritiro dei kit nell'infopoint dedicato a Torre a Mare oltre ai punti mobili di distribuzione dove tutte le istruzioni per l'utilizzo verranno illustrate dai facilitatori ambientali che risponderanno anche ad eventuali dubbi e domande il territorio in cui partiamo con la distribuzione parte con una percentuale che è al di sotto del 30 quindi ci auguriamo che a breve anche questo tessuto territoriale possa raggiungere una percentuale di raccolta differenziata che supera il 65% questo nell'ottica di completare la transizione tra la raccolta stradale e il porta a porta che ha dimostrato laddove è stata adottata di migliorare moltissimo le percentuali della raccolta differenziata e soprattutto di rispondere alle strategie che sono state già adottate in altre città nazionali anche internazionali Termina qui il nostro telegiornale grazie per averci seguito e buon proseguimento con la nostra programmazione Rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo